Oh, chiama tutti, tutti dentro qua! Oh raga, tranquillo, non smetto, non è una... Raga, quando abbiamo iniziato da primo giorno, quando sono arrivato io, poi dopo sono arrivati altri, non tanti hanno creduto in noi. Però, quando abbiamo capito di fare sacrificio, soffrire, credere e lavorare. Quando questo momento è entrato, siamo inventati un gruppo. E con il gruppo è possibile fare queste cose che abbiamo fatto. Oggi siamo campioni d'Italia. Voglio ringraziare tutti i giocatori prima. Vogliamo, adesso parlo per tutta la squadra, vogliamo anche ringraziare Paolo, Ricchi e Ivan. Raga, non è stato facile, però questo campionato l'abbiamo fatto come un gruppo. Sono molto orgoglioso di tutti voi. Adesso fammi un favore, festeggiate come campioni, perché Milano non è Milano. Italia è Milano!